Con gioia e speranza voglio presentare questo DVD che offre una visione sintetica ed un aiuto pedagogico per capire, apprezzare e celebrare il santo sacrificio della Messa nella forma straordinaria del rito romano. Questa forma si conosce pure con i nomi di Messa di San Pio V, Rito Antico, Messa Tridentina e Rito Gregoriano. Paolo VI, in riferimento alla Constituzione Sacrosanctum Concilium, nell'atto di promulgarla, dice Il primo tema esaminato è il primo, in un certo senso, nell'eccellenza intrinseca e nell'importanza per la vita della Chiesa, quello sulla Sacra Liturgia. Noi ravvisiamo lo secchio alla scala dei valori e dei doveri, Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione, la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale, primo dono che noi possiamo fare al popolo cristiano, con noi credenti e oranti. Se qualche semplificazione noi ora portiamo alle espressioni del nostro culto e se cerchiamo di renderlo più comprensibile dal popolo fedele, non vogliamo certamente impoverirlo della sua forza espressiva e del suo fascino artistico. Bensì vogliamo renderlo più puro, più genuino, vicino alle sue fonti di verità e di grazia, più idoneo a farsi spirituale patrimonio del popolo. Il culto ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umano e divino, visibile ma dotato di dimensioni invisibili, impegnato nell'azione e dedito alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrino, in modo tale che quanto ineso è umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile all'invisibile, l'azione alla contemplazione. Il Sacro Santo Concilio, in fedele obbedienza alla tradizione, dichiara che la Santa Madre Chiesa considera di uguale diritto e con pari onore tutti i riti legittimamente riconosciuti e volenti che, in avvenire, essi siano conservati e in ogni modo incrementati. Sarebbe incomprensibile escludere la forma straordinaria dell'unico rito romano. Ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo, sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra, per eccellenza, e nessuna altra azione della Chiesa ne ugualia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado. Questo programma della Pontificia Commissione Ecclesia Dei risponde al desiderio espresso dal Concilio Vaticano II che tutti i fedeli vengano guidati dalla Madre Chiesa a quella piena, consapevole ed attiva partecipazione delle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura della stessa liturgia e che i pastori di anime curino con celo e pazienza la formazione liturgica e la partecipazione attiva dei fedeli, interiore ed esteriore, secondo la loro età, condizioni, genere di vita e grado di cultura religiosa, assolvendo così uno dei principali doveri del fedele dispensatore dei misteri di Dio. Con Sacro Santum Concilium e con il motu proprio Sumorum Pontificum abbiamo presente che regolare la Santa Liturgia compete unicamente all'autorità della Chiesa. Questa autorità risiede nella sede apostolica e a norma del diritto nel Vescovo. La nuova comprensione della liturgia gregoriana, ispirata anche al pensiero del Santo Padre Benedetto XVI, è un valido elemento per armonizzare le innovazioni permesse dall'autorità competente, accertandosi che scaturiscano organicamente dalle nobili forme preesistenti, senza rotture e in dinamica di perfettiva continuità. Il linguaggio umano non può esprimere in forma esaustiva il mistero della nostra redenzione. Nella liturgia Dio parla al suo popolo e Cristo annuncia ancora il Vangelo. Ecco perché la Chiesa non desidera imporre una rigida uniformità. La forma straordinaria del rito romano è stata durante secoli l'alimento spirituale dell'Occidente cristiano. «Essa ha ispirato la musica gregoriana e polifonica, la nobile architettura dei templi, ha fatto pregare la pietra e i marmi, i colori e gli spazi riempiti del sacro silenzio e l'ambiente contemplativo che aiuta la modestia, invita simultaneamente alla preghiera e alla purezza». Quante volte le anime ed il cuore hanno seguito le volute dell'incenso che si eleva verso Dio, «Aiutato dalle colonne e dagli archi gotici o lo spirito riposa nella severità di una Chiesa romanica che si fa preghiera accompagnante dei fedeli». Papa Venedetto XVI, con decisione e coraggio, ha voluto conservare vivo questo patrimonio di cultura e di fede come stimolo alla santità anche delle future generazioni. La Chiesa gli sarà eternamente grata. «All'accusa di concorrenza o antagonismo tra i riti o di divisione dei fedeli si risponderà con la prudenza millenaria della Chiesa che sa avere nel suo giardino un posto per tutti i fiori e così nessuno dovrà essere escluso di scegliere liberamente quell'espressione di fede che meglio alimenta la fede di ognuno». «Offriamo una pedagogia della celebrazione della Santa Mesa, ma prima di imparare regole o rubriche, il sacerdote deve imparare lo spirito ed il senso profondo delle cerimonie. altrimenti la celebrazione diventa meccanica e fredda, senza la vita che richiede l'unione con Cristo e l'edificazione del suo corpo mistico». La liturgia gregoriana deve aiutare i sacerdoti alla loro identificazione con Cristo e al popolo santo a scoprire nel celebrante la presenza del Signore. A nessun missione può essere aiutare i clemenzii du sol traumi di dumm dείicano ormai